L'unica cosa che in questi anni ha funzionato davvero è stata la minaccia di chiudere il traforo del Gran Sasso. Questo è il testo dell'intercettazione tra due alti dirigenti di Strada dei Parchi, la società del gruppo Toto concessionaria delle A24 e A25. L'annuncio della chiusura del traforo e dell'aumento dei pedaggi parrebbe essere posto, sostiene la Procura dell'Aquila, quale scambio con il Governo centrale per l'ottenimento di benefici, ovvero mancati esborsi, da parte di Strada dei Parchi. L'inchiesta è quella riguardo la mancata manutenzione delle autostrade. La società del gruppo Toto, dal 2009 ad oggi, non avrebbe eseguito alcun intervento sulle parti strutturali della rete autostradale, in barba agli obblighi dell'atto concessorio, fatta eccezione per i due casi in cui a pagare è stato il pubblico. E ora le intercettazioni pongono la questione delle minacce. Secondo gli investigatori, Strada dei Parchi avrebbe paventato la chiusura del traforo, la messa in cassa integrazione dei dipendenti e l'aumento dei pedaggi per aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti del Ministero. Il gruppo Toto non ha atteso l'udienza del 9 giugno davanti al GUP dell'Aquila per smentire tutto e un processo mediatico contro di noi, fanno sapere da Strada dei Parchi. La tesi delle pressioni è risibile. Nessun ricatto riguardo la chiusura del traforo, dice la società, la quale nel 2019 stava per chiudere il tratto per il rischio inquinamento della falda acquifera con il coinvolgimento delle istituzioni, chiusura scongiurata dall'intervento del Ministero. E nessun ricatto nemmeno riguardo l'aumento dei pedaggi, sostiene la difesa, che regolato dalla Convenzione non può essere derogato nemmeno dal Governo. Nell'estate del 2019 però Strada dei Parchi aveva chiesto la rateizzazione dei pagamenti di concessione all'ANAS, altrimenti si sarebbe trovata costretta ad aumentare un pedaggio che è già tra i più costosi d'Italia. E mentre il Codacons ha lanciato un'azione di risarcimento per i cittadini che utilizzando le autostrade hanno rischiato la propria sicurezza, Strada dei Parchi rilancia volendo chiedere al GUP di disporre un incidente probatorio, ovvero un'indagine volta ad appurare lo stato e la consistenza delle strutture autostradali sotto indagine. Non c'è nessun pericolo per la sicurezza delle A24 e A25, dice Strada dei Parchi, nessun rischio è stato nascosto agli utenti.